Uno scenario può essere attivato in due modi o utilizzando un tasto fisico per installazione superficiale o da incasso oppure non necessariamente da un tasto fisico ma tramite l'app. Come attivare uno scenario? Uno scenario lo si attiva semplicemente premendo il tasto che c'è sull'app per esempio lo scenario esci che prevede che tutte le luci si spengano effettua la sua azione tramite la pressione sull'app. A proposito dei tasti di attivazione se gli scenari sono più di tre che quelli impostati per visualizzare gli altri o scorriamo da sinistra verso destra oppure selezioniamo vedere altro e in questo caso vediamo in una sola pagina tutti gli scenari che abbiamo impostato.